frank angleton ed io avevamo lasciato londra all'inizio di luglio con l'intenzione di passare almeno un paio di mesi in cornovaglia questo soggiorno non sarebbe stato una vera e propria vacanza perché lui era uno studioso delle civiltà preistoriche le cui vestigia si trovano in singolare abbondanza in quella terra antica ed io ero occupato a scrivere un libro che avrebbe dovuto essere quasi terminato ma che purtroppo era ancora molto lontano dal vedere la luce naturalmente erano previste molte partite a golf e un po' di bagni di mare per divagarci ma eravamo entrambi ansiosi di completare il nostro lavoro e speravamo di coglierne copiosi frutti prima di tornare in città il villaggio di saint caradoc in base alle descrizioni ricevute sembrava un luogo favorevole ai nostri piani lì attorno vi erano molte testimonianze mai studiate a fondo da un archeologo e la sua posizione sulla cartina molto distante dai luoghi di villeggiatura più alla moda promettevano una certa tranquillità inoltre offriva dei piacevoli passatempi c'era la club house di un impervio campo da golf in fondo al giardino dell'albergo a cinque minuti di cammino attraverso le dune sabbiose che conducevano alle buche verso il mare l'albergo era confortevole e in quel momento quasi disabitato e la fortuna stessa sembrava sorriderci ci stabilimmo lì senza fare ulteriori progetti frank aveva intenzione di visitare al tretone del paese prima di ripartire ma lì entro un miglio dal nostro albergo vi era uno strano cerchio di monoliti una sorta di stonehenge in miniatura chiamata concilio di penruth frank mi disse che era stato identificato come un luogo di culto druidico ma lui sospettava che in realtà non lo fosse e voleva studiare accuratamente il sito mi recai a visitare quel posto con lui con il pretesto di fare una passeggiata il secondo giorno dopo il nostro arrivo la via più breve attraversava le dune e da lì oltrepassava una ripida collina erbosa che portava le grandi distese di terra arata poste più in alto sotto l'influsso di quel clima caldo e mite il grano era già cresciuto e già si apprestava ad assumere un maturo colore dorato un sentiero strettissimo portava attraverso quei campi di grano fino alla nostra destinazione e da lontano si poteva vedere il cerchio di massi alti circa 1,20 1,50 metri ritti neri ed austeri stagliarsi contro il granito ingiallito benché la campagna circostante fosse tutta coltivata nessun aratro aveva mai scavato all'interno del cerchio dove cresceva ancora l'antica vegetazione delle colline ossia la corte erba vellutata punteggiata di timo e campanule aveva un aspetto bizzarro un aratro avrebbe potuto facilmente passare avanti e indietro tra i monoliti e quel mezzo acro di terra avrebbe potuto essere bonificato come mai la terra non è stata lavorata domandai oh questa è una terra di superstizioni e antiche magie mi rispose la terra racchiusa in questi cerchi non è mai stata utilizzata o disturbata e come vedi il sentiero dei campi che abbiamo preso ci passa attorno non lo attraversa vedi in che modo passa sul lato opposto riprendendo la stessa direttrice dopo aver fatto una deviazione lui rise il contadino che possiede questa terra è venuto questa mattina mentre stavo facendo delle misurazioni aggiunse è passato tutto attorno e quando il suo cane è entrato nel cerchio attirato da qualche odore interessante l'ha richiamato e gli ha dato una pacca e l'ha rimproverato esci di lì e non andarci mai più ma perché chiesi è un luogo in cui permangono delle influenze negative o una qualche maledizione probabilmente la gente di qui proprio come gli archeologi crede che questo fosse un tempio druidico dove si tenevano riti abominevoli e sacrifici umani ma sbagliano questo non è mai stato un tempio era la sala del consiglio e il suo stesso nome il concilio di Penrute lo conferma senza dubbio vi è anche un tempio qui vicino e mi piacerebbe molto riuscire a trovarlo il nostro cammino era stato piuttosto faticoso e alla fine della lunga salita che ci aveva portato a risalire il ripido pendio della collina eravamo piuttosto accaldati ci sedemmo all'interno di quel cerchio appoggiando la schiena contro due pietre accostate e mentre sedevamo a riposarci Frank mi spiegò la sua tesi se provi a contarli disse ti accorgerai che i monoliti sono ventuno io e te siamo appoggiati contro due di essi e se provassi a misurare la distanza tra questi dolmen ti accorgeresti che sono tutti posti a distanze uguali tra loro ogni monolito infatti rappresenta il posto di uno dei ventuno membri del consiglio ma se questo luogo fosse stato un tempio vi sarebbe stato un intervallo più largo tra le due pietre poste a oriente nel punto in cui era l'entrata del tempio orientata verso il sole nascente inoltre in qualche punto all'interno del cerchio probabilmente nel centro esatto della circonferenza sarebbe esistita una grossa pietra piatta ossia l'altare sacrificale sul quale venivano immolate vittime umane anche se la pietra fosse stata rimossa rimarrebbe la traccia della depressione che avrebbe lasciato sono questi i tratti caratteristici di un tempio e questo posto ne è privo si è sempre creduto che fosse un tempio e come tale è stato descritto ma io sono sicuro di avere ragione ma non c'è un tempio più vicino allora? gli domandai certamente qualsiasi insediamento preistorico che fosse abbastanza grande da possedere una sala del consiglio avrebbe di certo avuto anche un tempio che tuttavia è probabilmente scomparso quando questa zona è stata cristianizzata la vecchia religione se così si può chiamare fu considerata un'aberrazione e i luoghi di culto furono distrutti proprio come gli israeliti distrussero i boschi del dio Baal ma io intendo esplorare approfonditamente questa zona potrebbero esserci delle vestigia in quei boschi laggiù questo è proprio il tipo di posto in cui un tempio avrebbe potuto scampare alla distruzione ma qual era questa antica religione? domandai è molto poco conosciuta sappiamo con sicurezza che era una religione basata sul timore e non sull'amore i suoi dei erano cieche forze della natura che si manifestavano attraverso le tempeste, le epidemie, la distruzione gli uomini se li propiziavano per mezzo di sacrifici umani naturalmente i sacerdoti si intendevano di magia e di sortileggi erano la casta dominante e regnavano per mezzo del terrore se li offendevi probabilmente ti mandavano a chiamare e ti dicevano che gli dèi richiedevano il sangue del tuo primogenito in sacrificio al successivo solstizio d'estate appena i primi raggi del mattino avessero raggiunto l'entrata orientale del tempio era meglio essere un credente osservante a quei tempi sembra un passaggio così mite oggi osservai i templi dei vecchi dèi sono vuoti sì ma è straordinario con quanta tenacia permangono queste vecchie superstizioni appena un anno fa c'è stato un processo per stregoleria a penzance si era verificata una moria tra le mandrie di un certo contadino di qui e lui era andato da una vecchia secondo la quale era stata sicuramente una fattura a far morire le bestie e se lui l'avesse pagata lei l'avrebbe tolta lui la pagò più volte poi si stancò di pagare e la denunciò frank gettò uno sguardo all'orologio facciamo una passeggiata prima di cena propose invece di tornare sui nostri passi potremmo fare un giro lungo la collina e attraversare quei boschetti hanno un'aria molto attraente e poi potrebbero celare un tempio pagano osservai mentre ci alzavamo in piedi costeggiammo i campi coltivati e trovammo il sentiero che attraversava un grande bosco di abeti che si stendeva sul lato della collina e alberi non erano molto elevati in altezza ed erano esposti al vento che solitamente aspirava da sud ovest e che li aveva piegati premendo la massa dei rami verso terra ma il fogliame era molto denso tanto da creare una curiosa luce crepuscolare man mano che penetravamo nel cuore del bosco non esisteva un sottobosco tra quegli alberi e il terreno era coperto di un fitto manto di aghi di pino i tronchi degli alberi si staccavano slanciati come colonne da terra e le chiome sovrastanti erano dense di rami intrecciati tanto da far sembrare quel luogo una sorta di costruzione della natura stessa non si udiva il mormorio del vento tra i rami e quel luogo era così buio e immobile che si sarebbe potuto facilmente pensare di trovarsi a percorrere la navata di un luogo racchiuso fra vere e proprie mura l'odore dei pini si sentiva nell'aria acuto come quello dell'incenso il piede calpestava il terreno senza produrre alcun rumore come se posasse su fitti tappeti non si vedevano uccelli volare di ramo in ramo chiamandosi l'un l'altro l'unico rumore che si udiva era il ronzio delle mosche simili al suono di una nota d'organo emessa a lungo la calura che regnava fuori dal bosco era stata alleviata dalla brezza marina ma qui nessun refolo di vento muoveva l'aria soffocante e ferma che ci circondava man mano che già addentravamo sempre più nella penombra mi accorsi di provare un crescente senso d'oppressione era un posto inquietante e pareva fittamente popolato da presenze invisibili frank sembrava provare la stessa impressione mi sento come se fossimo osservati disse ci sono occhi che ci guardano da dietro i tronchi degli alberi che non gradiscono la nostra presenza da dove mi sarà venuta in testa questa idea balzana un bosco del diobal forse gli suggerì uno di quelli che è scampato alla distruzione abitato dagli spiriti dei sacerdoti assassini magari lo fosse ribatté potremmo chiedere loro la strada per il tempio improvvisamente indicò un punto più avanti eh cos'è quello esclamò seguendo la direzione indicata dal dito per una frazione di secondo pensai di aver intravisto qualcosa di bianco brillare tra gli alberi ma prima che riuscissi a metterlo a fuoco era già sparito forse gran caldo e l'atmosfera opprimente mi stavano giocando qualche tiro beh questo bosco non ci appartiene risposi immagino che anche altra gente abbia il diritto di passeggiarci ma io ne ho abbastanza di tutti questi tronchi d'alberi vorrei andarmene da qui proprio mentre pronunciavo queste parole scorgemmo un punto in cui l'oscurità tra gli alberi sembrava lasciare intravedere una schiarita la luce del giorno cominciò a penetrare fra i fitti tronchi e finalmente oltrepassammo l'ultima fila di alberi la luce del giorno entrava a fiotti e si sentiva di nuovo la fresca brezza dal mare era come uscire da un palazzo affollato e soffocante e trovarsi all'aria aperta ci trovammo in un luogo molto ameno dinanzi a noi si stendeva una vasta zona di collina erbosa liscia e antica proprio come quella racchiusa nel cerchio di pietre ingioiellata qua e là dal timo dalla centauria e dalla mentuccia il sentiero che avevamo seguito attraversava il manto erboso lo seguimmo e stavamo scendendo lungo il margine di una scarpata quando improvvisamente ci trovammo di fronte a una casetta dall'aspetto molto gradevole era una bassa casa a due piani che sorgeva entro un piccolo recinto circondata dalle aiuole e da un piccolo prato la collina alle spalle evidentemente era stata una miniera molto tempo prima ora i fianchi ripidi erano stati ricoperti da un fitto intrico di edera e di rovi e alla base giaceva un laghetto lungo i bordi del prato cresceva un gruppo di faggi e azeri che circondavano quasi completamente la radura in cui sorgeva la casa con il suo giardino la casa stessa era stata quasi soffocata dai rampicanti e dai cespugli di fucsia i comignoli non emettevano fumo e le serrande erano chiuse costeggiamo lo steccato di recinzione giungendo di fronte alla facciata e ci venne confermata l'impressione che si trattasse di una casa disabitata infatti accanto al cancello c'era un cartello indicante che la casa era da affittare e che ci potevano chiedere ulteriori informazioni all'agenzia immobiliare di Saint-Carradoc ma è un vero e proprio paradiso terrestre in miniatura esclamai perché non? Frank mi interruppe naturalmente non c'è alcuna ragione per non affittarla disse infatti abbiamo moltissime buone ragioni per farlo il padrone dell'albergo mi ha detto che la prossima settimana prevedeva di essere al completo e voleva sapere per quanto tempo ci saremmo fermati possiamo chiedere informazioni domattina trovare l'agente immobiliare e farci dare le chiavi le chiavi che ottenemmo il giorno seguente si rivelarono che la bellezza dell'interno non era da meno rispetto a quella esterna e la cosa ancora più meravigliosa era che l'agente era disposto a fornirci anche la servitù scoprimmo che quest'ultima era costituita da una cornovagliese rubiconda e capace che sarebbe venuta di primo mattino e con l'aiuto della figlia sarebbe stata al nostro servizio fino all'ora di cena per poi tornarsene al suo cocktail a San Caradoc per noi questo sarebbe stato sufficiente e la donna era pronta a prendere servizio non appena ci fossimo installati nella casetta tuttavia sottolineò che non ci avrebbe dormito senza fare ulteriori indagini avendo ricevuto ampie assicurazioni circa le sue capacità di cuoca ordinata e competente prendemmo possesso della casetta due giorni dopo l'affitto che veniva richiesto era straordinariamente basso il mio carattere diffidente mentre perlustravamo tutta la casa già prevedeva penuria di acqua o fornelli da cucina con tendenza ad arroventarsi lasciando invece il forno immerso nel gelo di una notte artica ma non ci attendeva nessuna di queste delusioni la signora Fenel girò i rubinetti e manovrò le valvole di tiraggio dei camini quindi dopo aver ripulito a fondo l'intera casa dichiarò che ci avrebbe reso il soggiorno molto confortevole io la sera torno a casa mia ci ripetè ma vi prometto signori che avrete l'acqua calda e la colazione pronta alle otto in punto traslocammo nel pomeriggio i nostri bagagli erano stati portati dall'albergo un'ora prima che arrivassimo e così trovammo che le nostre valigie erano già state liberate del loro contenuto i nostri vestiti erano stati distribuiti nei cassetti e che il tè era pronto in salotto il salotto e la sala da pranzo adiacente formavano insieme all'ingresso i tre ambienti del piano terra che aveva il pavimento di legno oltre la sala da pranzo vi era la cucina che aveva riscosso l'approvazione della signora Fenel al piano superiore vi erano due belle camere da letto e al di sopra della cucina erano sistemate due stanze più piccole per la servitù che in virtù del nostro accordo sarebbero rimaste vuote vi era una stanza da bagno tra le due camere da letto che comunicava con entrambe per mezzo di due porte niente avrebbe potuto essere più conveniente per due amici che dividessero la casa c'era esattamente ciò di cui avevamo bisogno e nulla era di troppo la signora Fenel ci serviva un pranzo semplice ma ben cucinato e alle nove di sera aveva già chiusa a chiave la porta della cucina e ci aveva lasciati soli prima di andare a letto passeggiammo per il giardino congratulandoci con noi stessi per la nostra fortuna il padrone dell'albergo ci aveva informato che l'albergo già iniziava a riempirsi la sua sala da pranzo quella stessa sera sarebbe stata invasa dal chiacchiericcio degli ospiti e la sala di lettura sarebbe stata piena di gente era certo stato un cambio vantaggioso prendere quella dimora confortevole e tranquilla fornita di una servitù tanto discreta da apparire all'alba e scomparire al tramonto rimaneva solo da vedere se quel ricettacolo di virtù culinarie sarebbe stato anche puntuale al mattino mi domando perché non si stabilisca qui con sua figlia disse Frank vivono sole giù al villaggio avrei pensato che fosse più comodo chiudere il loro cocktail per un po' e risparmiarsi la camminata al mattino e alla sera per socievolezza risposi a loro piace sapere che c'è gente qualsiasi tipo di gente a portata di mano a me invece piace sapere che non c'è nessuno mi piace mentre parlavo avevamo attraversato il cancello del giardino dove era stato il cartello con l'offerta di affitto il mio sguardo si era oziosamente spinto attraverso lo spazio aperto fino all'oscuro limitare del bosco che lo sovrastava e per un attimo vidi un bagliore subito soffocato come una scia luminosa lasciata da un cerino che viene sfregato ma che non si infiamma durò un solo secondo ma mi resi conto che quella luce doveva provenire dall'interno del bosco perché contro la scia luminosa avevo visto stagliarsi i trunchi degli alberi hai visto chiesi a frank quella luce nel bosco disse sì è apparsa lì diverse volte dura un attimo poi scompare sarà forse qualche contadino che era in casa era una spiegazione molto logica e per qualche ragione sulla quale non rifletterei a lungo la mia mente si affrettò ad accettarla dopo tutto chi altri se non gli uomini delle fattorie sugli altipiani avrebbero attraversato il bosco tornando da Saint-Carradoc dopo l'orario di chiusura del Leone Rosso il giorno seguente mi destò da un sonno molto profondo la signora Fenel che entrò recando l'acqua calda dovetti faticare per riconciliarmi con il mondo della veglia avevo l'impressione di aver sognato in maniera molto vivida cose oscure e fiocche e luoghi pericolosi e benché fossi sicuro di aver dormito almeno otto ore di fila mi sentivo curiosamente insonne a colazione frank rimase più taciturno del solito ma ben presto ci tuffammo nei progetti per la giornata lui si ripromise di esplorare nuovamente il bosco mentre io mi sarei occupato del mio lavoro una partita a golf ci avrebbe riempito l'intervallo tra il pranzo e l'ora del tè prima che Frank partisse e io mi mettesse al lavoro passezzammo un po' per il giardino preso sonnolento dai caldi raggi del sole del mattino e ci congratulammo con noi stessi per il nostro felice cambio di residenza scendemmo al laghetto sotto la collina scavata e lì lo lasciai per tornare a casa mentre lui per iniziare subito la sua esplorazione aveva preso a seguire il sentiero ingombro di vegetazione che portava all'interno del gruppo di faggi e anseri che ho menzionato prima attraversando il prato lo sentii gridare il mio nome vieni qui un momento ripeté ho trovato qualcosa di interessante ritornai sui miei passi aprendomi un varco tra gli alberi e lo trovai fermo accanto a un monolite alto e nero che si innalzava al di sopra della vegetazione del sottobosco con la sommità coperta di verde muschio è un monolite esclamò vivacemente è simile a una di quelle pietre che appartengono al cerchio forse anche qui vi era un cerchio o forse si tratta di una pietra che appartiene al tempio è profondamente incassato nel terreno ha l'aria di essere al suo posto originario vediamo se riusciamo a trovarne un altro in questo boschetto si spinse tra la fitta vegetazione a destra del sentiero e io contagiato dal suo entusiasmo esplorai la zona sulla sinistra poco dopo rinvenni un'altra pietra dello stesso tipo della prima e il mio grido che ne annunciava il rinvenimento è che giò assieme al suo la sua ricerca aveva fruttato un'altra scoperta e mentre uscivo dal folto degli alberi ritrovai accanto al laghetto della miniera una quinta pietra ancora in sito ma caduta in avanti su un letto di canne che circondavano lo specchio d'acqua tutto preso dall'eccitazione causata dalla scoperta abbandonai naturalmente i miei progetti di studio dopo un pranzo abbondante anche l'idea di giocare a golf fu abbandonata e prima di sera avevamo ricostruito in maniera approssimativa lo schema del sito la maggior parte delle pietre era situata nel boschetto che circondava quasi completamente la casa con l'aiuto d'un metro ci accorgemmo che erano tutte poste a distanze regolari un paio di monoliti erano situati a una distanza doppia e cioè quelli posti a oriente del cerchio sulla scarpata a sud della casa mancavano diverse pietre ma in tutti i casi scavando a un giusto intervallo rinvenimmo nel terreno frammenti di granito ricoperti di erba che stavano a indicare come probabilmente le pietre fossero state rotte e forse usate come materiale da costruzione questa ipotesi di Frank era corroborata dalla scoperta di frammenti di granito incorporati nei muri della casa in cui abitavamo Frank aveva schizzato su un foglio la posizione approssimativa di ognuna delle pietre e me lo porse mostrandomi il disegno della pianta si tratta senza dubbio di un tempio dichiarò ecco il doppio intervallo est di cui ti avevo già parlato e che costituiva l'entrata contemplai il suo disegno allora la nostra casa sorge proprio nel centro del tempio commentai sì che vandali sono stati a costruirla proprio qui esclamò probabilmente la pietra sacrificale giace da qualche parte proprio qui sotto o cielo signora Fenel è già ora di cena non avevo idea che fosse tanto tardi durante il poveriggio il cielo si era fatto nuvoloso e mentre sedevamo a cena prese a cadere una pioggia fitta e senza vento e sudivano i tuoni bruntolare sopra il mare la signora Fenel entrò a chiederci cosa desideravamo mangiare all'indomani e io le domandai prevedendo l'arrivo di una tempesta se lei e sua figlia non desiderassero rimanere per la notte evitando di bagnarsi no grazie signora adesso me ne vado rispose non facciamo caso alla pioggia qui in cornovaglia non gioverà molto ai suoi reumatismi risposi infatti mi aveva parlato di questi suoi malanni un lampo si stagliò improvvisamente nel vano della finestra priva di tenda mentre la pioggia sgrosciava più forte no adesso vado ripeté perchè è già tardi buonanotte signori udimmo nella cucina girare la chiave nella toppa della porta e poco dopo le figure della madre e della figlia passarono davanti alla finestra non hanno nemmeno un ombrello disse frank s'insuperanno prima di arrivare al villaggio mi chiedo perchè non preferiscano rimanere risposi ben presto frank si tuffò nei suoi preparativi di pianta in scala che aveva intenzione di disegnare l'indomani per prima cosa disegnò la casa nella posizione che aveva accertato essere il centro esatto del tempio la grandezza della pianta era tutto ciò di cui aveva bisogno per completarla e dopo aver misurato il salotto il corridoio e la sala da pranzo si recò in cucina intanto io mi ero dedicato al lavoro che avevo tralasciato di eseguire quella mattina e mi riproposi di lavorare per almeno un paio di ore prima di coricarmi trovai piuttosto difficile riprendere il filo e per qualche tempo rimasi impiantato tra false partenze e frasi cancellate ma dopo un po' ritrovai la mia forma abituale ed ero già felicemente assorto nel mio lavoro quando mi sentii chiamare dalla cucina no non posso venire disposi ho da fare solo un momento ti prego mi implorò il mio amico posai la penna e lo raggiunsi frank aveva spostato il tavolo della cucina da un lato e aveva alzato la copertura di assi del pavimento guarda qui esclamò il pavimento era formato da un tipo di pietra locale che probabilmente proveniva dalla cavala fuori ma al centro c'era una grossa pietra ovale di granito che misurava circa due metri per un metro e mezzo questa pietra è veramente enorme dissi è strano che abbiano fatto tanta fatica per metterla qui non hanno fatto nulla del genere disse lui scommetto che era già lì prima che costruissero il pavimento allora compresi è la pietra sacrificale domandai direi di sì è di granito ed è posta proprio al centro del tempio non può essere altro all'improvviso provai un brivido d'orrore su quella stessa pietra giovani e giovinette strappati dalle brazze delle madri legate in mani e piedi erano stati posti a giacere intanto il sacerdote coprendo con una mano gli occhi della vittima affondava il coltello di pietra nella liscia gola bianca segando il tessuto finché il sangue non sgorgava dall'arteria recisa e la luce premolante della candela che teneva Frank la pietra pareva bagnata e luccicante e si sentiva un rumore forse era solo la pioggia o era invece il rullio dei tamburi che dovevano sovrastare le grida della vittima è terribile vorrei che tu non l'avessi trovata Frank stava inginocchiato accanto al monolite e ne esaminava la superficie non posso dire di essere d'accordo con te disse questo convalida in maniera conclusiva la mia scoperta e non tre sia che l'avessi trovato o no sarebbe stata la stessa cosa beh io vado a terminare il mio lavoro dissi è un argomento più allegro delle pietre sacrificali mi auguro che sia altrettanto interessante rise lui ma il mio lavoro quando lo ripresi non mi parve affatto interessante e benché mi sforzassi non riuscivo a ritrovare quell'interesse che è necessario per produrre qualcosa di buono il mio sguardo si allontanava dalla pagina che stavo scrivendo degnandola di un'attenzione solo sporadica quando avrei dovuto dedicarle una concentrazione molto maggiore avevo la mente occupata altrove mi sorpresi sotto la sua influenza a scrutare gli angoli bui della stanza ma non c'era mai nulla e tuttavia man mano che il tempo passava una strana oscurità più tenebrosa di quella che circondava la casa cominciò a impossessarsi del mio spirito vi era pure un misto di timore anche se non avrei saputo dire di che cosa avessi paura soprattutto si trattava di una sorta di disperata depressione ancora lontana e indefinita ma che mi stava lentamente avviluppando mentre sedevo con la penna ferma nella mano tentando di analizzare quelle sensazioni di turbamento e di irrequietezza udì la voce di Frank che mi chiamava bruscamente dalla cucina infatti ritornando al mio posto avevo lasciato aperta la porta ehi gridò cos'era quel rumore chi va là saltai su dalla sedia e andai a raggiungerlo stava ritto accanto ai fornelli e teneva la candela sollevata al di sopra della testa intento a scrutare la porta chiedava sul giardino posteriore e che la signora fennel aveva chiuso a chiave quando era uscita cosa c'è? gli chiesi si voltò a guardarmi perché era trasalito sentendo il suono della mia voce curioso rispose stavo misurando la pietra quando con la coda dell'occhio ho visto la porta aprirsi invece hai chiusa a chiave vero? provò a girare la maniglia e infatti trovò che la porta era chiusa a chiave un'illusione ottica disse beh qui per ora ho finito ma che serata questo caldo è tremendamente opprimente vero? non c'è un alito di vento tornammo in salone mi si da parte il mio disgraziato manoscritto e tirammo fuori le carte ma dopo una sola partita lui si rialzò con uno sbadiglio non credo di riuscire a restare sveglio abbastanza da giocare un'altra partita mi disse casco dal sonno visto che la pioggia è cessata prendiamo una boccata d'aria prima di colicarci stanotte hai intenzione di rimanere sveglio a lavorare? effettivamente non era stata quella la mia intenzione ma il suo suggerimento mi spinse a riprovarci ero certo in preda a qualche misteriosa depressione e la cosa migliore da fare era combatterla e reagire voglio provare per una mezz'ora lo informai così vedrò come va e lo segui fino al portone di casa la pioggia in effetti era cessata ma regnava l'oscurità più completa a tentoni trovammo il sentiero di ghiaia fino all'angolo della casa in quel punto la luce che proveniva dalle finestre del salotto proiettava un circolo luminoso e si potevano vedere le aiole brillare per l'umidità benché fosse notte l'aria era ancora così calda che dal sentiero di ciottoli si levava un leggero vapore oltre al sentiero non si vedeva nulla né il prato né la collina che saliva verso il bosco eppure mentre eravamo fermi lì vidi proprio come era accaduto la sera precedente una luce che si muoveva lassù tuttavia ora sembrava provenire da un punto al di fuori del bosco poiché la sua vista non era interrotta dai tronchi degli alberi anche Frank la vide e la indicò è troppo umido stanotte mi disse ma domani sera propongo di andare lassù a vedere chi sono quei vagabondi notturni ecco chi si sta avvicinando e lì ce n'è un altro proprio mentre parlavamo era infatti apparsa una terza luce poi in un attimo erano scomparse tutte e tre io tenne fede al mio impegno e tentai di lavorare ma non riuscivo a concludere nulla infine mi trovai a ciondolare sulla pagina che non conteneva altro che cancellature con la testa china in avanti scivolai in una specie di dormiveglia e da quello in un sonno profondo quando mi risvegliai mi accorsi che la lampada era quasi esaurita e che il lucignolo stava buttando fumo mi pareva di essere tornato da un luogo molto distante e ancora mezzo addormentato accesi una candela e spensi la lampada poi mi diressi verso le finestre per sbarrarle fu allora che il mio cuore si fermò perché credetti di vedere qualcuno fermo là fuori intento a guardare verso l'interno attraverso il vetro ma doveva trattarsi di un sogno a occhi aperti perché a quel punto di nuovo ben sveglio mi accorsi di stare fissando la mia immagine riflessa nel vetro dalla luce della candela mi dissi che si trattava solo di questo ma nel dirigermi al piano di sopra lungo la scala scricchiolante mi sorpresi a domandarmi se avevo davvero creduto a quella spiegazione mentre il giorno seguente mi vestivo dopo un'altra notte molto poco riposante presi a interrogarmi cerca un ricordo che avevo perso e che avevo in vano cercato di ritrovare il giorno prima nella libreria del salotto c'erano due o tre dozzine di volumi ne prendone un paio avevo letto il nome di Samuel Tonwich scritto all'interno sapevo che si trattava di un nome che era apparso qualche mese prima sui giornali ma non riuscivo a ricordarne il contesto dalla ricorrenza del nome tra i libri sembrava ragionevole ipotizzare che fosse il proprietario della casa in cui alloggiavamo quando l'avevamo presa in affitto tuttavia il suo nome non era mai stato pronunciato la gente immobiliare era investito di tutti i poteri e il nostro anticipo pari all'affitto di due settimane aveva attivato il contratto Frank era troppo occupato per potermi accompagnare e quindi mi recai in paese da solo la sensazione di depressione e di vago presentimento erano ancora più pesanti quel mattino e avvertivo con quel sesto senso che non ha bisogno di parole o di linguaggio alcuno che anche lui era caduto in preda alla stessa pesantezza d'animo senza causa apparente ma non avevo percorso più di una mezza cinquantina di metri dalla casa quando fui liberato da ogni peso e conobbi nuovamente tutta l'euforia propria di una simile mattina la pioggia della sera precedente aveva schiarito l'aria dal mare ispirava una brezza leggera e come se fossi appena uscito da un tunnel mi beavo dello splendore del mattino il villaggio era pieno del ronzio tipico del periodo vacanziero il signor Cranston mi ricevette e si informò educatamente circa la nostra casa e le capacità della signora Fennell quindi, dopo averlo assicurato su entrambi i punti, mi apprestai a raggiungere l'obiettivo che mi ero prefisso il proprietario è il signor Samuel Tonglich, vero? domandai il sorriso della gente si attenuò un poco infatti, il signore, rispose, agisco nell'interesse degli eredi improvvisamente, in un baleno, parte di ciò che avevo tentato in vano di ricordare mi tornò alla mente cominciò a ricordare, dissi, morì all'improvviso vi fu un'inchiesta volevo sapere il resto della vicenda non sarebbe meglio che me la dicesse lei? la gente guardò di lato, poi tornò a guardarmi è una storia penosa, disse gli eredi naturalmente non vogliono che se ne parli un altro lampo improvviso illuminò ciò che avevo dimenticato si trattò di un suicidio, dissi venne invocato il solito verdetto di instabilità mentale e... e questo è il motivo per il quale la signora Fennell era stia a dormire in quella casa ieri sera è andata via durante la tempesta gli promisi di mantenere il segreto, poiché non avevo il minimo desiderio di dirlo a Frank e allora mi raccontò il resto della storia il signor Tomwitz era rimasto a lungo in preda a una grave depressione e un mattino la servitù era scesa e lo aveva trovato a terra sotto il tavolo della cucina con la gola tagliata accanto a lui era stato trovato un frammento di pietra di foggia strana coperto di sangue la forma slabbrata della ferita confermava l'ipotesi che l'assassino si fosse accanito sulla gola fino a recidere la vena giugulare l'omicidio però era da escludersi perché Tomwitz era un uomo forzuto e non c'erano segni sul cadavere o nella stanza indicanti una colluttazione né c'erano prove dell'ingresso di un assalitore tutte e due le porte della cucina erano chiuse a chiave dall'interno e gli oggetti di valore erano rimasti al loro posto dalla posizione in cui era stato rinvenuto il cadavere l'unica ipotesi ragionevole era che si fosse steso sotto il tavolo e lì si fosse volontariamente inferto una ferita mortale rinnovai ancora la mia promessa di mantenere il silenzio e me ne andai ora comprendevo l'origine dell'orrore senza nome e della depressione che avevo provato non era certo il fantasma del povero Tomwitz che temevo temevo invece la potenza dell'entità che lo aveva spinto a uccidersi sulla pietra sacrificale tornai sulla collina vidi il giardino pieno di sole di mezzogiorno di quella bella giornata di luglio e la placida tranquillità che emanava la sua fragranza da quel luogo non appena oltrepassai il boschetto ed entrai all'interno del circolo il peso morto di qualcosa di invisibile cominciò di nuovo a pesare sul mio animo vi era veramente qualcosa in quel posto orribile minaccioso e molto potente trovai Frank nel salotto aveva la testa china sulla sua pianta e trasalì quando entrai nella stanza ciao disse ho effettuato le misurazioni e voglio tener duro e terminare la pianta oggi stesso non so perché ma sento che devo sbrigarmi a portarla a termine e ho anche avuto un terribile attacco di depressione non riesco a spiegarmelo ma in ogni caso credo che mantenersi attivi sia la risposta migliore va pure a pranzare io non ho appetito lo guardai e mi accorsi che era avvenuto un cambiamento quasi impercettibile nel suo viso nei suoi occhi si leggeva un terrore che proveniva dal suo intimo non riuscirei a descrivere altrimenti quel che vedevo c'è qualcosa che non va? gli chiesi no solo un po' di depressione voglio continuare a lavorare e poi lo sai questa sera dobbiamo andare a vedere da dove vengono quelle luci tutto il pomeriggio rimase chino sul suo lavoro e fu solo al tramonto che si rialzò ecco fatto disse dio mio abbiamo trovato un tempio e altre vestigia sono terribilmente affaticato penso che farò un sonnellino fino all'ora di cena caddi in predà al terrore che sembrava entrare a fiotti dalle finestre aperte nella luce del crepuscolo giungevano i rinforzi da fuori pronti a sostenerne l'avanzata eppure com'era infantile lasciarsi andare adesso ormai eravamo soli perché avevamo detto alla signora fennel che in vista del grande caldo avremmo gradito un pasto freddo e così mentre frank dormiva udì la serratura della porta esterna della cucina girare e vidi la donna e sua figlia passare davanti alla finestra ben presto frank si mosse e si svegliò avevo acceso una lampada e vidi che con la mano frugava nella tasca del panciotto dalla quale tiro fuori un piccolo oggetto che mi porse è un coltello di selce mi spiegò l'ho trovato in giardino questa mattina è molto affilato sentendo questo avvertì un brivido di terrore percorrermi il cuoio capelluto e valsai in piedi senti gli dissi oggi non hai fatto nemmeno una passeggiata e questo ti fa sempre sentire abbattuto andiamo a cenare all'albergo il suo viso era al di fuori del cerchio luminoso della lampada e da quell'oscurità pervenne una strana risata chioccia ma non posso disse come fai a non capire che non posso hanno circondato questo posto e non c'è via di uscita ascolta non senti i tamburi e il suono dei loro corni le loro mani ormai mi circondano cristo è terribile dover morire salzò dal letto e cominciò a muoversi con strani passi strascicati verso la cucina avevo posato il coltello di selce sul tavolo e lui lo afferrò il senso d'orrore nel percepire quelle presenze invisibili e innumerevoli mi opprimeva però sapevo che non erano concentrate su di me ma avevano designato il mio compagno entravano a fronte non solo attraverso la finestra ma attraverso le solide mura della casa poi sul prato vedevo le luci muoversi lente e ordinate avevo conservato la lucidità il senso di orrore rispetto all'evento ormai imminente che ci minazzava mi diede il coraggio e la chiarezza di pensiero che vengono dalla disperazione mi alzai dalla sedia e mi posi con la schiena contro la porta della cucina non entrerai lì dentro esclamai devi venire via con me cerca di riprendere il controllo di te stesso frank ce la faremo quando saremo fuori in giardino saremo al sicuro non degnò le mie parole della minima attenzione come se non le avesse nemmeno udite mi mise una mano sulla spalla e sentii le sue dita premere contro i muscoli e penetrare come delle punte d'acciaio sulle ossa sottostanti una forza maniacale si era impossessata di lui mi spinse da parte come se fosse una piuma c'era solo una cosa da fare con il braccio rimasto libero lo colpii in pieno sul mento e lui cadde riverso sul pavimento senza esitare lo afferrai per le ginocchia e cominciai a trascinarlo inerte e privo di conoscenza verso la porta è difficile descrivere quel che accadde nei minuti che seguirono non vedi nulla non udì nulla non avvertì il tocco di mani invisibili ma non mi è possibile immaginare un'agonia di dolore lancinante che possa dilaniare con pari intensità il corpo e l'anima come mi accade nel corso di quella lotta con le forze maligne e invisibili che mi alleggiavano intorno non lottavo contro un avversario invisibile l'orrore che provavo era dovuto proprio al fatto che nessun fantasma poteva suscitare un terrore così totale prima che quei fantasmi circondassero completamente me e il mio fardello inanimato riuscii a portarlo fino al prato e fu allora che l'intero peso della loro implacabile potenza mi si rovesciò contro strane luci fuggenti mi baluginavano intorno e voci mormoranti riempivano l'aria e mentre trascinavo Frank sull'erba il suo peso sembrò aumentare fino a che mi parve di non trascinare un uomo ma un peso quasi impossibile a rimuovere fu ridotto a tirare disperatamente e riprendere fiato faticosamente per poi strattonarlo di nuovo Dio ci aiuti entrambi udì la mia stessa voce mormorare liberaci dai nostri nemici invisibili tirai ancora eri presi fiato a fatica l'anello di alberi verteggianti era ormai vicino e in esso erano ritte le pietre del circolo allora tentai un ultimo sforzo di concentrazione perché capivo che ormai le mie energie spirituali erano finite e presto non mi sarebbero rimaste più le forze per lottare è il più santo dei nomi e con il potere dell'altissimo gridai ad alta voce poi attese un attimo raccogliendo quel poco di energie che ancora mi rimanevano quindi mi chinai in avanti e avvertì i muscoli e i legamenti delle mie gambe rilassarsi mentre il corpo di Frank avanzava con me feci un altro passo avanti poi un altro ancora e finalmente oltrepassammo gli alberi e uscimmo dal recinto maledetto non seppi più nulla di quel che accadde dopo ero caduto in avanti coprendo a metà il corpo del mio compagno quando rinvenni lo udì riprendere lentamente conoscenza e avvertì la rugiada dell'erba bagnarmi il viso la casa era lì e attraverso la finestra del salotto vedevo ancora la lampada accesa la notte ci circondava tranquilla con il suo manto stellato e chiaro